Il gioco curativo con le cinque dita per curare il bambino interiore ferito, lezione 18, di Vivien Raubo, due coppè, psicologa svizzera. Teoria dell'elemento fuoco. Ti ricordi quale dito non ha gioia? È chiuso? Si ha messo una maschera? Perché pensa, se gli altri sanno come sono io, quello che penso non mi vorranno più bene. Sì, è quel piccolino che ha una maschera. Allora, ti ricordi del modo di sentirsi schilibrato dell'elemento fuoco? Sì, spento, senza gioia, insensibile, distaccato, indifferente e irrichieto. E ti ricordi il modo di pensare schilibrato dell'elemento fuoco? Sì, pensa, se sapessero come sono veramente, non mi vorrebbero più bene. O pensa, l'amore e l'intimità sono pericolosi. E ti ricordi del modo di comportarsi schilibrato dell'elemento fuoco? Sì, pluffa, finge, porta una maschera. Si sforza sempre di piacere. Cerca di soddisfare le aspettative degli altri. Non è se stesso. È vita, vicinanza e intimità. Ti ricordo dell'amico che era venuto e ha capito. Posso farmi vedere come sono? Posso togliere la maschera? Posso raccontare come sono davvero? Il mio amico mi capisce. E possiamo essere vicini e gioire dell'intimità. Allora, ti ricordi del modo di sentirsi equilibrato dell'elemento fuoco? Sì, si sente gioioso, pieno di calore, pieno di entusiasmo e è autorealizzato. E ti ricordi del modo di pensare quando il fuoco è equilibrato? Sì, pensa, io sono ok e vado bene così. Posso mostrarmi come sono. Posso essere me stesso. E ti ricordi il modo di comportarsi quando il fuoco è equilibrato? Sì, è se stesso. È creativo, si gode la vita, si lascia avvicinare e si crea intimità. Gode della sessualità. E facciamo adesso la meditazione del sorriso. Immagina di sorridere coi tuoi occhi. Senti il sorriso negli occhi. E sorridi dalle tue occhi al tuo cuore. Senti il sorriso nel tuo cuore. Lasci quel sorriso andare a ogni cellula. Portarci la gioia. E il calore. E sorridi adesso al tuo ventre. Al piccolo intestino. Senti il sorriso nel tuo ventre. E senti adesso quale parte del tuo corpo ha bisogno di ancora di più. Forse è lì dove ti fa male qualcosa. Dove hai un sintomo. E metti le mani lì. O se non sai dove metterlo, metti lì sul cuore. E senti il sorriso. In questa parte del tuo cuore. Ricordati adesso di un momento nel passato che ti sei sentita con molta, molta gioia. Forse stavi ridendo molto. Stavi giocando. Era un piacere grandissimo di ridere, di stare con amici. Ricordati di un momento molto piacevole. Con molta gioia. Guarda quel ricordo. Forse ti vengono qualcuni. Ma scegli ne uno. E guardalo. Guarda quello che succede. Ascolta. Forse ridono. Forse parlano. Forse giocano. Guarda e ascolta. E senti adesso come ti senti. E senti questa gioia. Questa allegria. E porta adesso questa gioia, quel sentimento è l'immagine di quel ricordo nel tuo cuore. Lascia ogni cellula del tuo cuore ridere, lidere, l'immagine. Sentire questa gioia. E porta adesso l'immagine nel tuo piccolo intestino, nel tuo ventre, nella tua pancia. il piccolo intestino che sta qui, quel tubo di cinque metri. Porta l'immagine, il ricordo lì. E lasci ogni cellula del piccolo intestino aprirsi a questa gioia. che sappia mi fa piacere quando gioisci della vita. Siamo qui per gioire. Metti adesso Metti adesso quell'immagine nelle tue mani. E anche il sentimento di gioia. E porta le mani e l'immagine e la gioia a tutto il tuo corpo. Metti le mani sulla testa dove vuoi tu. E lascia che ogni cellula del tuo cervello si apre a questa gioia. porta l'immagine nel tuo collo e nella nuca. Metti le mani dove vuoi tu. E lascia penetrare quest'immagine, quel ricordo. E lasci ogni cellula aprirsi a questa gioia e porta l'immagine e le mani nelle spalle. E lascia penetrare quest'immagine e la gioia in ogni cellula. Porta l'immagine nelle tue braccia e lasci l'immagine portare questa gioia in ogni cellula. porta l'immagine a tutto il tuo torracci e alle gambe le ginocchia e i piedi. e senti adesso quale parte del tuo corpo ha bisogno di vedere quest'immagine ancora e metti la mano lì. Senti dove forse qua forse qua forse qua forse qua e lasci l'immagine penetrare tutta questa parte del tuo corpo lasci ogni cellula aprirsi a quella grande gioia e falo ogni giorno durante sette giorni. Ripeti adesso la respirazione parallela con i raggi del sole che già conosci. immagini adesso che i raggi del sole penetrino per la tua testa e le tue spalle e vanno giù per tutto il tuo corpo per molti canali paralleli immaginari. senti i raggi come danno calore al tuo collo la nuca senti i raggi come passano per le spalle la schiena tutto il tuo racce e li danno calore senti i raggi come vanno al tuo cuore e come il tuo cuore diventa più caloroso amoroso senti i raggi del sole come passano per le gambe e i piedi senti i raggi come fluiscono per tutto il tuo corpo e portano calore e senti come ti porta la gioia la gioia di vivere fai queste visualizzazioni giornalmente durante sette giorni e scrivi nello tuo quaderno di studio per youtube quello che hai fatto e dopo sette giorni continua con la lezione 19 che trovi nella mia pagina web e per pagina la pagina pagina